Un ennesimo episodio di violenza e danni di un medico, questa volta è toccata ad una dottoressa di Crotone, essere brutalmente aggredita a colpi di cacciavite. Dottor Sodano, un suo commento. Analoghi e simili episodi sono avvenuti però in tutto il paese. I medici sono stanchi, gli operatori sanitari sono stanchi, i medici e gli operatori sanitari tutti chiedono che si intervengano, dicono basta. Sia la federazione nazionale, sia gli ordini professionali, sia i sindacati hanno chiesto al governo di intervenire con una legge. Esiste un disegno di legge che è però ancora in itinere, a questo punto si comincia a prevedere di poter intervenire anche con un decreto legge che metta un'argine a questi episodi. Episodi che oltre a essere gravi di per sé, rendono difficile ai medici, agli operatori sanitari di lavorare con tranquillità, lavorare con quella tranquillità che è necessaria per affrontare le problematiche di salute dei cittadini. La solidarietà massima alla collega e ai suoi familiari, ma adesso bisogna intervenire.